Passa per Don Guilherme, Fernando Navarro, Babel, Apocrusia per Don Titon, Stoetto leptò. Errore che ha dell'inconcepibile, questo di Leo Messi, non c'era fallo su Berenguer, gli ha offerto la palla dell'1-0 Suarez, Messi è riuscito a spiazzare Nauset Perez, non a sentenziarlo con il mancino incrociato. Gran parata a Pares, guarda in mezzo, trama ancora Leo Messi, scavetto di Messi, la mano salvefica di Nauset Perez, secondo mano a mano per Leo Messi e seconda vittoria del portiere dello Sassone. Il contropiede fin troppo agevole, per due come Messi e Suarez, l'uruguaggio che ha aspettato l'arrivo del numero 10, cercato la soluzione di fino Messi e Nauset ha dato uno schiappo al pallone, ma c'è un altro calcio d'angolo sempre sul sinistro di Messi. Messi accelera, ne ha di fronte diversi, ma per lui non è un problema, si pulisce l'angolo di tiro per il sinistro, risponde ancora Nauset Perez, tre parate su tre conclusioni di Messi. Attenzione per adesso al break dell'Atletico con Griezmann che si scatena, Correa, al limite Correa, Nauset Perez lo ferma, e poi l'arbitro invece ferma il gioco. Una grande chance, costruita dall'Atletico Madrid con Griezmann che guida la transizione, poi fa la cosa giusta, serve in posizione regolare, anche il Correa. Che però non è freddo davanti a Nauset Perez con il piede. Fa partire il cross per la porta, l'errore San José, da fuori San José, Nauset Perez in qualche modo si oppone per l'oraccio di Miguel Flanio. Mugnain parte, il cross adesso lo sa e lo aspetta lì. San José fa partire adesso il cross, a due resti testa, Nauset, bella risposta del portiere Navarro. Bola levantata per la pequena area, bene, poi anche soffre la falta. Bene, guarda reti, Pérez, Nauset Perez a agarrar bene. E... Grazie.